In questi giorni si parla molto delle uova abbelenate o inquinate da topicili e insetticili vari, ma grazie a internet oggi si può sapere anche tutti gli altri cibi che noi mangiamo, che sono altrettanto, tra virgolette, abbelenati, inquinati, che provocano ovviamente danni enormi alla salute, poco alla volta ovviamente, come sempre. E qua anche la Coldiretti pubblica una lista nera dei cibi che noi mettiamo sulla nostra tavola e fanno male. E' un po' come dire, una volta si diceva mangio che cresci, oggi si potrebbe dire che chi mangia di più si ammala più frequentemente e probabilmente morirà anche prima.